Ciao! Oggi vi propongo un trucco con un pigmento di MAC che ho riscoperto da poco che mi è piaciuto tantissimo appena l'ho visto perché fra l'altro ho anche gli orecchini che sono in tinta e mi sono venuti in mente quando l'ho visto quindi mi è piaciuto praticamente subito e l'ho acquistato perché all'inizio sono un po' in fissa ultimamente con la Perglide Undercurrent che vedrete anche nel mio video preferito dell'ultimo trimestre quindi gennaio, febbraio e marzo del 2013 e praticamente sono entrati in fissa con questa matita e la uso dappertutto ovviamente, cioè dappertutto nel senso in qualsiasi trucco che faccio ovviamente i miei occhi, non so se lo sapete, ve lo dico ora hanno una sensibilità praticamente eccessiva a qualunque cosa quindi devo stare attentissima a ogni cosa che metto intorno all'occhio e quindi essendo comunque una matita, una Perglide quindi ha dentro delle microperle non posso ovviamente stare troppo vicina all'arima interna dell'occhio quindi devo stare un po' intorno e io pensavo sinceramente, una volta visto il pigmento, che fosse molto simile a Undercurrent invece no, sto parlando di Steel Blue che comunque vabbè è il colore che vedete sulla mia palpebra è un colore spettacolare, veramente molto bello secondo me per questa stagione bella che sta arrivando è un colore da poter abbinare molto spesso a diversi trucchi per cui è un qualche giorno che mi trucco in questo modo è fra l'altro un trucco anche abbastanza veloce e ho avuto tempo oggi di girarvi questo tutorial quindi vi ho fatto questa proposta oggi scusate se non sto uppando i video con la frequenza in cui dovrei perché comunque con la quale dovrei sì io teoricamente l'idea del mio canale era quella di appare, uppare i video sulle unghie di venerdì e finora ce l'ho quasi sempre fatta tranne mi sa durante le festività e il lunedì vorrei tenere come giorno make up o beauty channel, comunque quindi tutorial capelli, trucco preferiti o comunque video recensioni o cose di questo genere e purtroppo mi sono resa conto che nonostante il lunedì è uno dei giorni in cui dovrei essere a casa adesso ho diciamo una piccola occupazione secondaria e quindi faccio un po' fatica a girare come dovrei quindi scusate non è più il lunedì il giorno del make up o beauty channel purtroppo quando avrò la possibilità li farò e quando li vedete vuol dire che sono riuscita a farli nel caso riesco a girarne più di uno come oggi che sono riuscita a fare anche il video preferito primo trimestre 2013 e li carico comunque di lunedì quindi piccola parentesi volevo chiarire insomma una cosa perché mi sembrava giusto data l'assenza dare questo chiarimento e niente il trucco è questo qua come vedete io spero veramente che vi piaccia almeno quanto piaccia a me perché sinceramente spacca mi piace veramente di brutto e adesso che sono due tre giorni che sta facendo il bel tempo non so se quando lo carico sarà ancora bel tempo però con il sole mi piace veramente tanto fra l'altro altra piccola parentesi sto girando in una zona diversa della casa con la finestra praticamente davanti di solito giro nella stanza con i lampioni ho 4-5 luci che illuminano oggi c'era la luce naturale ho pensato di sfruttarla fatemi magari sapere sotto nell'info box se preferite l'illuminazione di oggi o se magari devo cambiare ancora qualcosa perché mi sto ancora adattando un po' quindi non ho raggiunto ancora il perfetto insomma la zona perfetta in cui voglio girare i video quindi niente aiutatemi a trovare il set perfetto per i miei video se vi interessa niente io mi sembra che ho parlato anche troppo vi lascio al tutorial mi raccomando se vi piace pollice in su e ci vediamo al prossimo video ciao per questo look utilizzo il nuovo fondo minerale di MAC il nuovo Moisture Foundation e una goccia e mezza è più che sufficiente per tutto il viso altrimenti fa quell'effetto lucido che è l'eccesso opposto mi piace l'effetto luminoso ma non lucido e lo stendo con il pennello di Real Techniques l'Expert Face Brush e cercando di farlo ovviamente assorbire bene dalla pelle evito il contorno occhi che poi ripasserò meglio con il correttore a questo punto poi utilizzo una goccia del mio correttore in questo caso il Pro Longwear Concealer nella tonalità NW20 lo stendo sotto l'arcata sopraccigliare per nascondere i peletti perché sto cercando di far ricrescere le sopracciglia sopra per dare un effetto un po' di lifting e ovviamente ovunque ci sia bisogno quindi di correggere qualche imperfezione purtroppo in questo periodo ho bisogno di diverse coperture e poi lo stendo anche ovviamente sotto gli occhi scusate per l'occhio gonfio ma le allergie purtroppo sono immuni al correttore per cui avrei potuto metterne a quintalatte ma non sarebbero bastate per cui cerco semplicemente di coprire leggermente la discromia dell'occhiaia e lo scaldo con il dito successivamente per fondarle un po' meglio con il fondo poi utilizzo il Prep & Prime Highlighter in Radiant Rose solo sotto l'occhio e lungo il naso e questo dà un effetto molto luminoso che mi piace particolarmente in questo periodo quindi lo stendo anche questo con le dita per scaldarle farla andare un po' più in profondità poi pettino le sopracciglia per eventualmente rimuovere dei residui di fondotinta che ci siano rimasti con la mia matita di C-Shade la BR602 e disegno le sopracciglia quindi cerco di definire meglio la forma visto che come vi ho detto prima sto cercando di farle ricrescere al momento sono in una fase un po' in between diciamo per cui mi serve la matita per dargli una forma un pochettino più precisa non utilizzo un ombretto perché in questo caso non è sufficiente poi passo il Brow Seal di Make Up For Ever un gel per fermare i peletti delle sopracciglia come negli ultimi video sto facendo praticamente di continuo poi metto la mia base in questo caso il Softalker Paint Pot pochissimo su tutta la palpebra mobile è fissa se ne metto troppo la mia palpebra è abbastanza grassa per cui se ne metto troppo rischia di fare diverse pieghe quindi giusto pochissimo per dare quel tocco di uniformità al colore della palpebra che serve con Blank Type accentuo sotto l'arcata sopraccigliare quindi do un attimo di punto luce con Omega comincio a costruire la profondità dell'occhio quindi solo nella piega e mi concentro soprattutto nell'angolo esterno dell'occhio cerco di dare profondità appunto non mi soffermo più di tanto perché comunque poi andremo a mettere un pigmento molto colorato per cui verrà coperta abbastanza cerco semplicemente di fare un effetto sfumato tra il punto luce sotto l'arcata sopraccigliare e la piega che sarà un pochettino più scura a questo punto la parte divertente spruzzo un pennello sintetico a lingua di gatto con il Fix Plus e poi lo immergo nel mio pigmento in questo caso lo Steel Blue io uso un fazzolettino sotto per cercare di evitare i fallout se voi preferite potete fare direttamente il fondo successivamente quindi vi occupereste prima degli occhi e poi del fondotinta io in questo caso ho deciso di fare in questo modo qui continuo a stendere il pigmento finché non è dell'intensità che desidero e lo porto solamente sulla palpebra mobile cercando di delineare bene i bordi e tenendo al di fuori cioè tenendo libero l'angolo interno dove poi andrò a inserire un colore più chiaro come punto luce con un pennello da sfumatura in questo caso è della Sigma le 25 sfumo il tutto e poi passo Texture che è un colore di un marroncino abbastanza caldo nella transazione dei due colori per cercare di dare un effetto gradiente un pochettino più carino e semplicemente cerco di sfumare il tutto verso l'arcato sopraccigliare con un pennellino molto piccolo questo è di MAC uso Shroom che è un colore iridescente molto bello secondo me sta molto bene solo sulla parte proprio sotto il sopracciglio e nell'angolo interno cercando di portarlo a sfumarlo insieme al pigmento quindi con questo pennellino piccolino faccio un movimento avanti e indietro praticamente per cercare di sfumarlo senza dover andare con un pennello da sfumatura che è un po' troppo grande per quel punto dell'occhio poi con il 2,39 di MAC passo texture anche sotto la rima inferiore dell'occhio se avete un problema d'allergia come me cercate di evitare i colori caldi come questo io me ne sono accorta solo dopo l'editing e poi passo brun solo sulla rima delle ciglia quindi solo per infoltire l'acqua shadow il numero 2e mi sembra sia il marrone comunque nella rima interna superiore e inferiore per fare un effetto di profondità dello sguardo quindi infoltire le ciglia per la rima superiore e una profondità in più nello sguardo per la rima inferiore poi passo undercurrent su tutta la rima superiore dell'occhio ovviamente quella esterna stando molto attaccata alle ciglia quindi per fare un effetto di profondità diverso nel senso per cercare di portare il colore a un'intensità maggiore nella rima delle ciglia piego le mie ciglia con il piegaciglia di sephora e poi applico il mascara occhioni in questo caso ne applico tre passate dopodiché passo a rifinire la mia base trucco quindi passo a illuminare gli zigomi con il cream color base nel colore luna lo stando perché è una crema quindi lo stando con le dita per scaldarla meglio come blush utilizzo Flutter Me la Pearl Matte della collezione in edizione limitata dell'Arcis la collezione di MAC di marzo poi utilizzo la Mineralize Skin Finish Natural e nella colorazione Light per fissare il mio fondo quindi il fondo tinta e il correttore la applico con un pennello molto grande questo è di Sigma come rossetto ho scelto di utilizzare Shy Girl di MAC è un colore pesca molto tenue che secondo me sta molto bene con il contrasto verde e blu degli occhi potete andare tranquillamente anche su un colore un po' più rosato tipo Cream Cup o un colore anche fucsia secondo me sta molto bene questo è il look finale io spero vi sia piaciuto mi raccomando lasciate dei commenti se avete delle richieste per i prossimi video i prossimi tutorial e ci vediamo nei prossimi video ciao 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 ciao